Benvenuti a questo nuovo tutorial definitivo su come rendere il vostro DJI Avatar sia uno che due finalmente in modalità manuale ovvero la famosissima Acro quasi sicuramente l'avete comprato con il motion controller e adesso volete dopo aver comprato il remote controller 2 quello diciamo tradizionale con i due stick portarlo in modalità Acro e sbloccarlo qui con me vedete non solo la radio ma anche drone e occhiali perché prima ci occuperemo di una fase meccanica eliminare la molla di questo stick per renderlo libero però poi ci servirà anche sbloccare una parte software dentro gli occhiali con il drone acceso quindi vi farò vedere tutto il tutorial che vi mostro oggi va bene per il remote controller 3 ma anche per il 2 per i google 3 ma anche per i google 2 ok bando alle ciance troviamo insieme al remote controller questa brugolina che dovrebbe essere uno e mezzo piccola ma resistente e andiamo a lavorare dentro la radio sotto lo stick sinistro che vabbè adesso vedete a destra ma è lo stick sinistro e aprendo vediamo che ci sono due lettere F1 e F2 la prima cosa che dobbiamo andare a fare per eliminare il ritorno della molla è stringere al massimo la F2 mi raccomando non vi confondete fra le lettere se non riusciremo nel nostro intento stringiamo ovviamente senza esagerare la vita è molto piccola e delicata quindi non andate a morte come vedete non abbiamo più ritorno poi inizialmente sarà tutto molto libero lo stick vi cadrà giù e non va bene per regolare la resistenza poi e la durezza di questo movimento qua non essendoci più la molla noi andiamo a intervenire su F1 più si stringe in senso orario ovviamente più diventa dura la molla più si svita senso anti orario più la molla diventa morbida non è proprio una molla ma è la frizione come vedete questo non va lasciato fare anche perché se noi stiamo accedendo e molliamo molla il gas e non va bene quindi stringiamo sempre un po' questa F1 e la stringiamo sempre dopo aver stretto al massimo F2 poi in base al piacimento chi piace più morbido o più duro come preferite voi decidiamo che resistenza dargli a me questa resistenza va bene quindi non ci resta che richiudere iniziate dalle parti più lontane e poi vi avvicinate al centro ok una volta che è chiuso andiamo a accendere il radiocomando e poi la mossa successiva gas è sempre abbassato la mossa successiva è accendere i nostri occhiali e bindare radio e occhiale ok adesso la prima cosa che dovremo andare a fare è bindare la nostra radio che sarà lampeggiando in questo momento con i nostri visori avendo bindato la radio con il visore anche il nostro avatar 2 in automatico riuscirà a connettersi alla radio come si fa bisogna tenere premuto per 5 secondi il pulsante power della radio inizierà a fare così e 5 secondi il pulsante power del vostro visore se fosse il google 2 invece del tasto power si schiaccia il tasto che c'è all'interno degli occhiali invece con il google 3 e l'integra si tiene premuto il tasto power come vedete si sono fermati i led di notifica quindi adesso occhiali e radio sono bindate una volta bindate i due andiamo a accendere il drone perché le impostazioni che dobbiamo andare a modificare in questo momento senza il drone collegato non sono raggiungibili quindi adesso accendiamo anche il drone mi raccomando togliete sempre il copy gimbal prima di accenderlo che io soprattutto su avatar mi dimentico sempre ecco come vedete ha fatto un segno di notifica e ha collegato radio occhiali e drone ora possiamo in teoria decollare ok ora vi sto mostrando quello che vediamo nei nostri visori col controllerino andiamo verso destra spunta questo menu andiamo su impostazioni poi andiamo su comandi come vedete qua abbiamo il radiocomando tutto acceso e come vedete non c'è più segnato il motion controller come prima ma abbiamo il nostro remote 3 adesso qui ovviamente poi sceglieremo i vari tasti gli possiamo assegnare noi cosa vogliamo abbiamo delle opzioni non tutte ma abbiamo delle opzioni poi funzioni stick vi insegna se siate in modalità 2 ovviamente quella che vi consiglio io in rc exp che è dove ci interessa a noi come vedete in fondo abbiamo il limite di assetto modalità m questo per voi è verde lo dobbiamo spuntare e confermare vedete che è richiesta la padronanza della modalità manuale e noi ovviamente ci siamo allenati e ce l'abbiamo fatta torniamo indietro andiamo in personalizzazione tasti in fondo modalità personalizzata come andate a vedere voi è il tastino quello davanti a sinistra voi troverete qua modalità sport noi dobbiamo mettere modalità manuale ovviamente è richiesta la padronanza e dobbiamo modificare lo stick che noi abbiamo già visto prima e quindi non ci resta che fare conferma mettere modalità manuale se no selezionando modalità manuale rimaniamo in sport quindi a livello di software ci sono questi due passaggi da fare poi torniamo indietro e siamo pronti al decollo come vedete rc collegato massimo segnale e drone collegato col massimo segnale come al solito se vi sono stato d'aiuto mettete un bel like iscrivetevi al canale perché tutorial come questi ne faremo tantissimi altri soprattutto se avete appena comprato il drone e volete scoprire tutti i suoi segreti attivate la campanella e noi ci vediamo al prossimo video ce li sereni a tutti ciao ciao sono Mini2 per iscriverti al canale basta cliccare in alto a destra in alto a sinistra c'è il video che youtube consiglia per te in basso a destra invece c'è l'ultima creazione del mio padrone in basso a sinistra una playlist sicuramente di tuo interesse ti ringrazio di averci seguito fino a qui ora devo andare grazie a tutti